Segretario, oggi mobilitazione con la Will Pensionati, ma la campagna che avete lanciato per la raccolta firme è contro il disegno di leggi dell'autonomia differenziata. C'è un messaggio chiaro che il sindacato ha mandato sin dall'inizio e oggi avete scelto uno slogan che non si presta in interpretazioni, che è appunto l'Italia non si slega. Sì, noi crediamo fortemente in un'Italia unitaria, un'Italia unita, un'Italia che ha nel suo DNA e nella sua costituzione anche la perequazione, la solidarietà. Riteniamo che con questa norma l'Italia non si divida in tanti piccoli statarelli e quindi non possa dare le risposte ai bisogni strutturali, soprattutto di un mezzogiorno, che non può essere legato ed esclusivamente al settentrione in termini di risposte. Oggi i pensionati lanciamo con questa giornata straordinaria partecipata la nostra azione di raccolta firme per il sostegno del referendum, per l'abrogazione a questa norma, perché riteniamo che il sistema dei servizi, attraverso l'autonomia differenziata, l'infrastrutturazione della nostra terra, il welfare, il sistema, nel suo complesso possa solamente trovare difficoltà e non miglioramenti. Però la mobilitazione continuerà fino a settembre? C'è un calendario fitto di appuntamenti, sicuramente sì, ci saranno tutta una serie di iniziative che verranno fatte in ogni comune, con il sostegno chiaramente delle nostre confederazioni, a fianco anche di tutte quelle che sono le varie associazioni, le varie istituzioni che stanno insieme a noi sostenendo questo percorso. Non ci fermeremo fino a quando il referendum non sarà approvato. Segretaria, oggi Consiglio regionale della Will Pensionati, per ribadire la vostra contrarietà, un'occasione per ribadire il disappunto del sindacato nei confronti della riforma dell'autonomia differenziale. Sì, lo slogan del Consiglio di oggi è l'Italia non si slega. Se pensiamo veramente di rispondere a quelle che sono le sfide globali dell'economia, dividendo l'Italia in 21 regioni, ognuno con delle competenze esclusive su materie che per noi, su diritti che per noi sono diritti essenziali, stiamo commettendo un grande errore. Basta semplicemente una firma, una firma per dire di no ad una legge profondamente sbagliata, ad una legge iniqua, ad una legge che continuerà a privare i calabresi, soprattutto di quelli che sono dei diritti fondamentali, dei diritti che dovrebbero essere universali, perché così sono previsti dalla nostra Costituzione. Penso al diritto alla cura, al diritto all'istruzione. Ecco, questi sono sempre stati i servizi pubblici e tali devono rimanere, a prescindere dal luogo di nascita e dal luogo di residenza. Abbiamo in Calabria una migrazione importante, una migrazione che è diventata non solo una migrazione sanitaria, e questo lo dicono i dati dell'Istat, che sono sempre dati più drammatici, perché abbiamo perso negli ultimi dieci anni ben il 15% dei medici e il 6,7% degli infermieri, ma abbiamo avuto la capacità di assistere ad una fuga di cervelli importante. Abbiamo perso negli ultimi dieci anni 90.000 giovani, è dunque uno spopolamento importante, e se non diciamo no a questa legge sull'autonomia differenziata, ritengo che il futuro della Calabria, il futuro dei calabresi, non sarà sicuramente un futuro rosio.